ok ciao ragazzi sono appena arrivato sono valter come vedete mi sono giocato da poco non ho ancora tolto il giubbino oggi ripariamo un huawei p... oh madonna sono proprio rimbambito oggi eh... un... si huawei mate 10... prrr light huawei mate 10 light con queste condizioni lo riparo è sabato mattina vabbè c'è da fare questo lavoro e si fa la solita cosa sostituiamolo schermo vetro touch lcd e niente che dire non giudicatemi dalla faccia così mi sono alzato da poco da poco anch'io sono le nove e mezza apriamo adesso e niente solito procedura vetro touch lcd e via una cosa soltanto ribadisco anche in questo video se avete un telefono da riparare che da fare un lavoro tipo questo perché video li faccio su questi lavori qua se avete un telefono da fare un video così che è un nuovo uscito top di gamma comunque un nuovo uscito che sia un telefono che interessante scrivetelo nei commenti io ve lo riparo con 35 euro e già i watt e tutto quanto e voi mi date nel ricambio il telefono e io ve lo riparo il tipo di lavoro lo decido io lo concordiamo assieme non venite non siete voi che mi dite a me cosa devo fare sul telefono per capirci detto questo passiamo al video mamma mia che faccia che occhi dai come al solito vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non siete iscritti lasciare un like al video e appunto di scrivere nei commenti se avete bisogno di aiuto dai passiamo il video ciao 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 ciao